di graduatoria personaliata abbiamo già spiegato i tre link andiamo alla compilazione oltre a tutte le richieste di comunicazioni dei dati, del trattamento e quant'altro scendiamo e accediamo ora la domanda ci chiede la provincia di destinazione possiamo scegliere da menù attentino la provincia che vogliamo una volta deciso clicchiamo avanti e andiamo nella nostra domanda compariranno i nostri dati alle grafici chiaramente noi daremo uno sguardo per accertarci che tutti i nostri dati siano corretti in modo particolare luogo, data di nascita e codice fiscale andiamo avanti e finalmente siamo nella nostra domanda quindi quali modelli sono previsti e che cosa dobbiamo fare? è previsto un primo modello denominato B1 che vedete qua che riguarda appunto l'inserimento ex novo in gradatoria il modello B2 che riguarda invece l'aggiornamento cioè per coloro che già presenti devono solo aggiornare il punteggio entrambe queste B1 e B2 hanno necessità di compilazione per il titolo culturale di servizio e di servizio titoli specifici per l'assistente tecnico se vengono aggiunti nel caso di aggiornamento titoli di preferenza e di riserva che sono condizioni annuali che vanno sempre appunto ripetuti e ridichierate modello F la richiesta di rinuncia alle supplenze modello H che riguarda l'attribuzione della priorità per ottenere quindi in maniera prioritaria una sede legata ovviamente ai benefici della 104 del 92 e poi andremo nello specifico altre dichiarazioni e cosa molto importante note domanda ma cerchiamo di andare in ordine quindi in modello B1 abbiamo detto noi ci interesseremo di faremo questa simulazione relativa all'inserimento nel gradatorio quindi azioni disponibili io quindi ho cancellato la bozza che avevo fatto quindi c'è inserisci mi dice come ti vuoi inserire per quale profilo e qui troverete amministrativo tecnico google addetto all'azienda agraria collaboratore infermieri o guardarobbieri diciamo mettendo i flag su una dei vari profili in questo caso assistente amministrativo appunto ci chiede varie informazioni quindi titolo di studio diploma di maturità anno di conseguimento diciamo 1989 eh 89 90 data di conseguimento 13 luglio eh 1990 istituto per velocizzare mettiamo tutte x votazione conseguita diciamo 46 00 su sessantesimi perché all'epoca non c'erano i centesimi ho messo l'ottato in 90 quindi la base di votazione conseguita quindi sessantesimi quindi 46 su 60 attestato di qualifiche specifiche per il campo amministrativo contabile rilasciata ai sensi della legge articolo 14 845 del 78 bene qua eh nella precedente nel precedente incontro che abbiamo avuto su risulta scuola l'abbiamo già specificato che purtroppo ci sono grossi problemi eh in quanto attualmente oggi le qualifiche regionali questo tipo di qualifiche non sono più rilasciate dalla legge 845 del 78 così come riporta l'OM 21 che è l'ordinanza madre con il quale poi in base alla quale gli uffici scolastici regionali emanano i singoli bandi e non c'è questo aggiornamento relativo alla normativa di settore delle qualifiche noi abbiamo richiesto un'integrazione una nota integrativa che consente in qualche modo di poterle inserire ma ad oggi non ancora abbiamo ricevuto risposte quindi il bando prevede solo queste qua dell'845 del 78 e coloro che ne siano in possesso devono scrivere gente che l'ha rilasciato per esempio non so school x scuola di formazione scuola di formazione dante tanto per dire quando l'hanno conseguita per esempio 27 settembre 2020 e devono indicare perché è prevista proprio dal bando quali sono le materie comprese nel piano di studi fatto fatto questa operazione dobbiamo scegliere qual è la nostra modalità di accesso cioè come vi chiediamo l'inserimento nelle gradutorie ma le modalità di accesso sono molto semplici sono solo tre la modalità A la modalità B e la modalità C la modalità A è quella in base alla quale deve essere in servizio nel profilo o in profilo superiore se è attualmente in servizio in qualità di personale A la modalità B invece dichiare di non essere in servizio ma puoi inserirti nei 24 mesi perché sei presente negli elenchi provinciali ad esaurimento quelli che più comunemente noi conosciamo come seconda fascia che sono stati istituiti grazie al DM 75 dell'ormai lontano 2001 terza e ultima modalità di inserimento è non sono in servizio ma chiedo l'inserimento in gradutoria di prima fascia perché sono ATA quindi sono ATA presente negli elenchi di terza fascia quindi la qualifica di personale ATA anche se non si è in servizio non si perde se si è presenti o negli elenchi provinciali cosiddetti di seconda fascia o di terza fascia scegliamo quindi la nostra modalità io qua per commettiamo modalità A quindi sono in servizio in qualità di ATA e dichiaro con la scuola flag che vedete qua dichiaro di aver maturato i 24 mesi di servizio devo indicare qual è la mia scuola di servizio quindi Cidante oggi lo useremo un po' oltremodo e devo indicare la provincia dove presto servizio diciamo che presto servizio ad abbiamo detto Bologna quindi Bologna benissimo poi nel cliccare il tasto inserisci ovviamente vado alla pagina iniziale il modello B2 è un modello che abbiamo detto lo stiamo facendo perché riguarda l'aggiornamento e vado quindi ai titoli culturali e di servizio clicco accedi e mi chiede tutta la lista dei miei titoli culturali e di servizio quindi io aggiungo il diploma e lui mi chiede se questo titolo che sto aggiungendo è valido ai fini dell'inserimento ai fini dell'aggiornamento o dell'inserimento e dell'aggiornamento ed entrambi se io uso questo titolo per l'accesso alle grazie tradutore e quindi come nel nostro caso è accesso quindi utile ai fini dell'accesso scrivo il tipo di titolo l'anno di conseguimento in cui l'ho preso l'istituzione dove l'ho presa e il giorno di conseguimento e diciamo vabbè mettiamo una data qualsiasi posso aggiungere ulteriori titoli cliccando aggiungi titolo oppure posso dire inserisci e eventuali errori come potrete notare nella parte superiore della pagina mi saranno segnalati in rosa quindi la validità del titolo è un campo obbligatorio perché l'avevo detto ma non l'avevo poi segnalato quindi dai fini dell'inserimento e la data di conseguimento non appartiene dell'anno 89 90 perché il sistema ci segnala anche le eventuali incoerenze temporali questo riguarda sia nella descrizione quindi nella comunicazione delle date dei titoli ma la stessa operazione il sistema la farà anche se rileva incoerenze temporali quando andremo a dichiarare i nostri servizi quindi qua aggiusteremo e diremo che l'abbiamo conseguito il 31 luglio del 1990 ok e adesso il sistema si sente tranquillo poi ci sono altri titoli che sono valutabili come ad esempio nel caso di specie un diploma di laurea specialistica laurea magistrale laurea vecchia ordinamento e quindi possiamo tranquillamente dire ho una laurea ad esempio magistrale aggiungo il titolo è valido quindi ai fini dell'inserimento descrivo il titolo e anche qui inserisco la data attestato di addestramento professionale per la tattilografia o addestramento professionale per i servizi meccanografici qua ci riferiamo ovviamente a quelli che sono o l'attestato di datilografia oppure quelle che è la cosiddetta patente europea bene quindi sono valutabili altri titoli concorso pubblico per l'accesso a profilo professionale qui sia l'ordinanza che il sistema ovviamente procede nella valutazione dei titoli di in caso l'aspirante risulti idoneo vincitore di concorso per un profilo analogo in alta pubblica amministrazione siccome noi stiamo simulando la domanda di assistente amministrativo ma da sé che può essere valutato un'idoneità concorso pubblico a tempo indeterminato ad esempio per l'assistente al comune certamente non può essere valutato se ho vinto un concorso come tecnico caldaista nel profilo di assistente amministrativo quindi mi deve essere corrispondenza quindi si andrà a dire il titolo se valido ai fini dell'inserimento come abbiamo detto anche prima aggiornamento o entrambi la data di conseguimento il profilo professionale e l'istituzione che ha indetto il concorso possiamo scorrere la pagina abbiamo tutta una serie di titoli che sono riconosciuti anche e previsti quindi in domanda come ad esempio i titoli giuridici contentativo di conciliazione favorevole al candidato ecco anche qui inserendo un pochettino come vi dicevo il sistema fa una certa valutazione di logica quindi di coerenza dell'arco temporale quindi se io scrivo che è valido ai fini dell'inserimento perché tutti noi sappiamo che i servizi riconosciuti a seguito di congiliazione sono validi anche ai fini dell'inserimento nella gradatoria 24 mesi e dico che dal primo di settembre 2019 ho prestato servizio fino al mi hanno riconosciuto giuridicamente fino al 31 agosto del 2020 ok l'anno scolastico di riferimento è il 19-20 il profilo professionale è l'assistente amministrativo il sistema mi dà già il calcolo ti dice 12 mesi e numero giorni però fate attenzione se vi accorgete di aver sbagliato e volete cancellare questo periodo e scrivere ad esempio invece di 31-8 mettiamo 31-7 2020 ok il numero dei mesi rimane invariato quindi c'è bisogno di cliccare nuovamente il pulsante per dare modo al sistema di ricalcolare i giorni quindi ricalcolo ed eccolo qua il sistema me l'ha portato correttamente a 11 mesi l'istituzione che ha riconosciuto la conciliazione e qui mettiamo la data di conciliazione la data di conciliazione per logica di sistema deve essere successiva a quello che è il periodo indicato in conciliazione quindi se io vado a scrivere che ho avuto la conciliazione a giugno del 2020 lui mi dirà che non è corretta perché mi dice che la data di conciliazione non può essere inferiore alla data di fine servizio se io invece siccome abbiamo messo il 31 luglio indico come data 31 agosto 2020 e il sistema mi dirà che la data è corretta che cosa ho scritto sì no non ho messo 31 8 2020 ok vabbè il luogo della conciliazione perché abbiamo scritto tutte x ma la data è finalmente corretta dico questo perché e qui apriamo una parentesi perché non possiamo dare per scontato che tutte le date siano successive al rapporto di potrebbe anche esserci dei casi in cui sono stato saltato per una supplenza annuale ho fatto la conciliazione o posso in essere la conciliazione a maggio ma in realtà il contratto in teoria doveva essere il 30 giugno quindi io magari ho il problema di dover indicare una data che precede la scadenza del contratto in questo caso l'unica cosa dichiarate però dovete fare attenzione perché tutto quello che noi stiamo inserendo e quindi comunicando all'amministrazione ha una responsabilità precisa a livello penale e amministrativo perché è una dichiarazione resa ai sensi del 445 del 2000 quindi prestate particolare attenzione alla correttezza formale di tutto quando dichiarato allora possiamo aggiungere nelle note che abbiamo visto nella pagina centrale e specificare chiarire mettere in condizione dell'amministrazione di poter capire e individuare prontamente eventuali anomalie e quindi l'assoluta buona fede e correttezza da parte dell'aspirante continuando quindi dicevamo ci sono tutta una serie di servizi poi giuridici abbastanza datati che stava precari insomma che è passato un po' di tempo ma resistano ancora in queste schermate perché potrebbe in teoria esserci ancora persone che hanno questi tipi di titoli e che dovrebbero inserire semplicemente come di servizi abbiamo i servizi militari di leva e servizi civili obbligatorio quindi tutti coloro che hanno questo requisito possono entrare nelle azioni disponibili inserire e vanno ad aggiungere quindi validità di servizi la modalità tipologia di servizio militare quindi o in costanza o non in costanza ovviamente il 90% il 99% dei casi non in costanza di rapporto di lavoro perché sapete che in costanza significa che io già ero assunto ho dovuto fermare il mio lavoro per assolvere l'obbligo militare ma credo che non ci siano di questi casi invece non in costanza se semplicemente ero disoccupato sono andato chiamato sono andato chiamato alle armi e ho svolto il servizio militare o il servizio civile in alternativa a quello che era l'obbligo per il servizio militare e poi invece abbiamo il servizio civile volontario cioè svolto successivamente all'abolizione dell'obbligo di leva che anche qui è stato chiarito dopo svariati anni che è assolutamente valutabile perché rientra nei servizi svolti nella pubblica amministrazione quindi senza dubbio alcuno e poi abbiamo l'importazione dei titoli di servizio da fascicolo ahimè questo per le domande di nuovo inserimento che rappresentano il grosso del lavoro non solo presenti ma solo per l'aggiornamento e abbiamo infine i titoli di servizio che dobbiamo dichiarare riguardando le scuole statali e non statali quindi inserisci facciamo un esempio quindi servizio valido allora servizio valido ai fini dell'accesso che cosa si intende se io devo dichiarare il servizio che è utile all'inserimento nei 24 mesi dovrò dire sì se invece ad esempio è un servizio paritario non è utile all'accesso cioè non mi dà l'accesso non è idoneo a farmi a consentirmi l'accesso nella 24 mesi ma è idoneo solo per la parte di punteggio adesso quindi diciamo devo dichiarare il servizio della scuola statale che concorre quindi ai 24 mesi dico sì dico in quale profilo l'ho fatto e dico è valido ai fini dell'inserimento perché non sto aggiornando ma mi sto inserendo ok dico il numero di ore e voi sapete che il numero di ore per una questione di punteggio è rilevante ma l'amministrazione vuole giustamente tutte le informazioni indico il periodo di servizio eh che ho svolto potete scrivere che farlo qua da calendario l'anno di riferimento 2021 balla 22 il solito sistema mi calcola in maniera precisa eh il il numero dei mesi e dell'eventuale residuo dei giorni e poi ci sono informazioni di carattere generale che sono quindi istituzione presso la quale è stato prestato il servizio quindi c dante eh il tipo di servizio statale o non statale o altra pubblica amministrazione eh quindi diciamo in questo caso statale inseriamo l'indirizzo il comune e poi abbiamo queste due diciture a cui ehm diciamo sono particolarmente interessato più che altro perché possono generare un poco di confusione allora periodi di interruzione della retribuzione e periodi di assenza eh i periodi di assenza eh i periodi di interruzione della retribuzione intendiamo chiaramente quei eh periodi dove ci sono stati ad esempio provvedimenti disciplinari che eh hanno portato con sé eh la sospensione da servizio e quindi senza retribuzione sospeso cinque giorni senza retribuzione quindi ho interrotto la retribuzione a causa ad esempio di un un una un provvedimento disciplinare i periodi invece di assenza eh dal lavoro senza retribuzione sono ad esempio eh la malattia eh eh comunicata eh oltre il periodo di comporto mi spiego sono un assistente amministrativo un collaboratore annuale sapete che per il personale annuale ci sono tre mesi di malattia e primo è pagato al cento per cento gli altri due sono pagati al cinquanta per cento se però il mio stato di salute necessita di quattro mesi di malattia il quarto mese io lo posso fare ho diritto alla conservazione del posto però chiaramente è un'assenza priva di eh priva di retribuzione e va segnalato per chi poi eh bisogna capire che tipo di assenza è e poi appunto stabilire eh l'eventuale idoneità al punticcio oppure no bene quindi finita questa maschera di carattere generale eh come abbiamo detto ci sono i titoli specifici per gli assistenti tecnici eh vediamo velocissimamente quindi il titolo di studio indica qual è il titolo di studio eh che ha come come un po' tutti quanti poi può inserire invece l'eventuale patente di e eh il patentino per la conduzione delle eh caldaie a vapore e poi sulla ehm sulla questione delle aree laboratoriali ricordo sempre che c'è in linea per gli assistenti tecnici l'allegato C dove andando all'applicazione potete eh velocemente eh parte che il sistema vi segnalerà i codici dei titoli RR01 come ad esempio nel caso che stiamo presentando ma se poi volete capire meglio ulteriormente sviscerare potete aiutarvi con questa applicazione che eh vi dice anche il laboratorio il gabinetto e la relativa descrizione laboratoriale è tutto mentre ritornando quindi alla nostra istanza attenzione in maniera particolare ai titoli di preferenza e di riserva i titoli di preferenza che chiariamo sono quei titoli che a parità di puntigio ci danno una preferenza io ed Andrea abbiamo tutti e due 25 punti ma io sono figlio di invalido eh nel settore pubblico privato ed Andrea no quindi io ho una preferenza un titolo di preferenza Andrea no a parità di condizione io sarò avanti eh come posizione ad Andrea e andiamo a vedere quali sono questi titoli di preferenza i primi sinceramente credo che faremo fatica a trovarlo comunque eh medaglie a valore militare nel senso ex combattente di guerra eh invalido mutilato per fatto di guerra orfano di guerra orfano per caduto di fatto di guerra ferito in combattimento eh e così via poi incominciamo eh diciamo così eh lettera L figlio di Murdano invalido per servizio del settore pubblico privato quindi eh facendo un esempio di essere in possesso di questa preferenza clicco eh scrivo l'ente che ha rilasciato eh il decreto come potrebbe essere ad esempio nel nostro caso CSA di Milano la data e il numero dell'atto identificativo oppure genitori vengono rispondati fratelli e sorelle sposate caduti in guerra eh genitori non sposati e fratelli vedono i caduti per fatto di guerra aver prestato servizi militari come combattenti aver prestato notevole servizio a qualsiasi titolo per lo meno di un anno alle dipendenze della pubblica amministrazione in questo caso la lettera Q l'abbiamo tutti quanti questa preferenza perché tutti abbiamo svolto per lo meno di un anno e parliamo ovviamente di una 24 la preferenza della lettera Q lettera R coniugato o non coniugato con riguardo il numero di figli a carico e per figli a carico intendiamo i figli fiscalmente a carico e infine troviamo le altre due interessanti preferenze che sono invalido o mutilato civile quindi bisogna indicare gli estremi e militare delle forze armate che si sono raffermati e che non si sono poi raffermati o che abbiano svolto questo tipo di servizio e questo diciamo così lo ripeto sottolineo perdonatemi se lo faccio ma insisto sono solo titoli di preferenza andiamo invece ai titoli di riserva che è una situazione decisamente delicata dove all'interno possiamo inserirci e ritroviamo anche queste voci come ad esempio invalido civile oppure non vedendo sotto muro oppure volontari in firma prefissata allora che cosa succede con questo tipo di dichiarazioni si concorre per posti per percentuali di posti che sono riservati riservati a questi tipi di categorie quindi se sono un invalido civile quindi sono un invalido riconosciuto dalla legge 68 del 99 devo inserire l'ente che mi ha riconosciuto l'invalidità con date il numero dell'atto e ovviamente indicando tutte queste queste cose dovrò però rispettare il requisito di essere scritto all'atto di inserimento nella 24 mesi dovrò rispettare l'equisito di essere scritto nelle liste elettorali del centro della massima occupazione volontari in firma breve prefissata perché anche qui c'è una riserva specifica per i militari che hanno svolto servizio di firma breve e prefissata e quindi hanno una percentuale a loro dedicata e riservata andiamo indietro il modello F invece richiesta di rinuncio delle supplenze chiaramente è un modello dove io dico semplicemente che non sono interessato all'attribuzione delle supplenze annuali ma sono semplicemente interessato alle operazioni finalizzate all'immissione in ruolo quindi dice se non c'è questo profilo si chiede la rinuncia alle supplenze assistente amministrativo inserisci il modello F è aggiornato con successo quindi stabilito questo modello significa che io sarò chiamato solo per l'eventuale immissione in ruolo ok posso eliminare la mia scelta tranquillamente e dice un'altra volta che è stata aggiornata ma non vedete più il colore verde il modello H un altro modello particolarmente importante perché riguarda appunto l'attribuzione della scelta della sede dell'ottenimento dell'assegnazione della sede e vediamo alcuni dettagli allora troviamo in questa pagina due casistiche molto importanti il primo pezzo che riguarda se siamo disabili se siamo disabili in base all'articolo 21 o all'articolo 33 comma 6 allora quali sono le differenze per non dare solo numeri solo numeri allora i titolari dell'articolo 21 sono quelle persone che hanno l'invalidità l'articolo hanno sono possessori di legge 104 articolo 3 comma 1 l'articolo 33 invece comma 6 sono invece coloro che hanno la legge 104 articolo 3 comma 3 ovviamente all'interno anche all'interno delle invalidità quindi riprendo un attimo la questione delle invalidità ci sono due percentuali da rispettare se si è invalido civile diciamo così in quanto non legato ad un infortunio sul lavoro la quota minima per questa invalidità è fissata al 46% mentre se sono invalido perché si è verificato un infortunio sul lavoro la quota scende al 33% quindi dicevamo troviamo queste prima queste due condizioni di carattere personale articolo 21 quindi che significa ho la 104 ma non ho il comma di gravità a cui si aggiunge poi ovviamente la mia invalidità e poi l'articolo 33 comma 6 che è sempre personale però ho l'invalidità ho il comma di gravità quindi articolo 3 comma 3 la seconda invece vantispecie è nei casi di assistenza quindi articolo 33 commi 5 e 7 quindi dichiaro di essere il papà o la mamma indico tutti gli estremi e poi bisogna mettere un flag dove dichiaro che appunto il bambino disabile è in situazioni di gravità ma soprattutto guardate bene non è ricoverato a tempo pieno in una struttura perché se così fosse in linea generale non vi è diritto tranne casi particolari dove anche in presenza di un ricovero la struttura attesti comunque necessità particolari e quindi la presenza della persona oppure possono esserci le seconde condizioni fratello sorella quindi possono essere fratello sorella ma devo assistere io quindi mio fratello e mia sorella però è chiaro che si ispira a quella che è la normativa della mobilità quindi un pochettino restrittiva da questo punto di vista infatti se leggiamo la parte inferiore dice l'aspirante dichiare che fratello è disabile in situazioni di gravità che non è ricoverato a tempo pieno eccetera eccetera e che deve essere assistito in quanto i genitori non sono viventi o sono impossibilitari a provvedire all'assistenza del figlio disabile cioè in buona sostanza io lo devo fare perché i miei genitori o non sono presenti o se presenti sono affetti da patologie invalidanti che non gli consente di espletare la funzione di assistenza oppure di essere conigio figlio o figlia e si caricano i documenti vado veloce per appunto cercare di chiudere altre dichiarazioni quindi riguarda che qui fate molta attenzione ricordatevi sempre che sono autodichiarazioni quindi che siede cittadini italiani di quale paese siete dove sono le vostre liste elettorali in quale liste elettorali siete iscritti un'attenzione particolare dedicata mi raccomando alle condanni o ai carichi pendenti vanno dichiarati tutti anche quelli per i carichi in cui è trascorso tanto tanto tempo e perché molto spesso capita che a volte in buona fede ci si dimentica oppure si pensa che una condanna di vent'anni prima ormai non è più in grado di produrre effetti invece l'amministrazione poi magari risulta al casellano giudiziario delle condanne e quindi si vengono ad una dichiarazione mendacia e dichiarare anche eventuali condanni non significa niente se non ci troviamo in quei casi ostativi per il pubblico in vivo qualsiasi altro condanno insomma non rappresenta un problema e quindi domande sull'obbligo di leva si dichiara di non aver presentato domande in altre province di avere l'idoneità fisica eccetera eccetera l'ultimo punto nel no dalle domande questo è il nostro consiglio il consiglio più sincero che posso darvi è che ogni eventuale dubbio perplessità o anomalie che avete mi raccomando dichiarate esplicitate in maniera chiara nelle 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 noti in modo da consentire dell'amministrazione di poter di poter valutare eh sia la parte amministrativa che la parte par Chao